Oggi è la giornata nazionale delle Proloco. Siamo la Proloco Mazzara e siamo ritornati in piazza dopo due anni di assenza per pandemia. Siamo in una centralissima piazza del centro antico della città di Mazzara, in piazza immacolata, a due passi dal fiume Mazzara, a due passi dal centro storico. Abbiamo scelto questa piazza per la sua posizione strategica che ha all'interno del centro perché per l'occasione sono previste anche visite guidate. Oltre alle visite guidate abbiamo iniziato già questa mattina con una estemporanea di pittura. Ci sono i ragazzi della Casa della Comunità Speranza che stanno realizzando una grande vela. Io vorrei ringraziare il Comune di Mazzara del Vallo per il patrocinio e tutto lo staff della Festa del Pane e della Pasta che si svolgerà a Borgata Costiera. Questo è il cantiere della festa. Siamo qui proprio per iniziare i lavori del grande evento che si svolgerà ad agosto. C'è grande attesa per la Festa del Pane e della Pasta e quindi stiamo lavorando insieme a Francesco Foggia, insieme a tutto lo staff, insieme a Lunac, che voglio ringraziare calorosamente proprio per il supporto logistico che hanno dato all'iniziativa. Ringrazio anche tutte le aziende che hanno aderito e l'associazione Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazzara che da sempre sponsorizza le nostre iniziative. Qui questa splendida piazza è animata anche da una mostra a mercato, da tele coloratissime degli allievi del liceo artistico che è anche aderito all'iniziativa perché ha partecipato a un progetto di alternanza scuola-lavoro proposto dalla Proloco, alla scoperta della città murata. Quindi sono in esposizione in questa piazza le opere che hanno realizzato i ragazzi durante il progetto. Ci sono anche degli espositori, abbiamo Creative Lab, abbiamo Bugie, abbiamo Barbara Gancitano con delle splendide opere realizzate a mano, delle collane. Abbiamo Tania Lombardo, Francesca De Santi, abbiamo anche Emanuele Lombardo, abbiamo In Viaggio tra i Filari, abbiamo Il Miele di Giulio Vitale. Quindi una piccola festa, anticipazione del grande evento che ci sarà ad agosto a Borgata Costiera. Grazie Liliana, naturalmente per me oggi è un onore essere qui presente nella giornata nazionale della Proloco, soprattutto in qualità di diatore della festa del pane e della pasta. Abbiamo dato un supporto con le nostre aziende che stanno sponsorizzando l'evento della festa del pane e della pasta, ma soprattutto questa giornata è una realtà del nostro territorio grazie alla Proloco, che comunque è un'associazione turistica che ha ammazzato il vallo e in questi anni ha fatto sempre e comunque una differenza. Quest'anno, come ha detto Liliana, riproporremo la festa del pane e della pasta. La stiamo avendo con un grande entusiasmo, c'è un entusiasmo importante in tutta la città. Lavoriamo nell'ottica dell'inclusione totale, dall'elettività commerciale, anche la cittadinanza, ma soprattutto avremo delle aziende che arrivano pure fuori dalla Sicilia e questo per noi è un bando di orgoglio. Significa che stiamo lavorando bene e stiamo facendo crescere l'evento in maniera importante. Ci saranno diversi artisti che esibiranno, ma soprattutto c'è il premio internazionale Sulana d'Oro. Detto questo, innanzitutto oggi Mazzara del Vallo possiamo dire che è una città d'arte e cultura, proprio oggi vediamo delle estemporanee fatte dai ragazzi, abbiamo diverse tele che stanno dipingendo diversi artisti mazzarese, ma soprattutto a sei chilometri da qua abbiamo oggi altri artisti che stanno realizzando dei murales presso Borgata Costiera. Vedete, basta poco, basta l'amore, basta la passione, ma soprattutto la voglia di fare. È grazie a delle aziende come Cromat e come Chiraema che stiamo riuscendo oggi a realizzare queste importanti opere d'arte. L'appuntamento è per oggi qui a Piazza Santa Lucia e poi naturalmente sarete tutti invitati per Borgata Costiera dal 7 al 9 agosto.